tempo voglio subito salutare perché mi pare che si fatemene vedere lui è lui non è lui è lui è massimo ferrero quello vero è certo quello vero è finto no pensavo crozza salve presidente ferrero ma mi sente secondo me crozza si è crozza mi sente buongiorno salve salve ferrero ma con me non si è messa la sciarpina che delusione senza sciarpina stamattina no la sampdoria avete pure vinto che ha detto è crozza è crozza non è ferrero vero a sciarpa che ma potete dire a sciarpa che devo devi dire se glielo dicevi se la metteva diceva che voleva la sciarpa la verità è che io dopo quella vittoria di risena così importante ero sicura che arriva proprio col turbanti arrivava stamattina no sono arrivato con la supercazzola allora scusatemi torno subito aspetti un attimo devo sentire adesso la lorenzine del masto poi torno da lei beatrice non rita risponda a domenico e adesso lei mi ha mandato tutta la serietà di questo intervento è stata come dire ferrero mette di buon umore poco ma sicuro sì sicuro